Cari amici, mi trovo nella splendida città di Aosta perché questa sera alle ore 20 presso la sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo all'arco d'Augusto faremo la nostra conferenza sul codice Ratzinger. Ecco, la Valle d'Aosta era una delle ultime regioni che mancavano in Italia per accogliere la conferenza sul codice Ratzinger. Oggi manca solo la Campania, la Puglia l'abbiamo già fissata per il 23 novembre e ancora il Monise. Grazie agli amici della Valle d'Aosta che mi hanno ospitato. Questa sera sarà qualcosa di molto interessante, ci sono già parecchie prenotazioni. Ecco, vi ricordo di prenotarvi su WhatsApp e sms al 375-5635-877. Ma vengo a parlarvi di una cosa importante oggi perché la nostra petizione ha superato le 6.000 firme ma non basta. Non basta, non basta, non in senso assoluto, non basta relativamente alle persone che seguono il sottoscritto e soprattutto le persone del piccolo resto che seguono Domi Nutella, 50.000-60.000 persone. Ecco, dove sono queste 50.000-60.000 firme? Presto credo che vi farò pubblicherò un podcast da parte di un avvocato per tranquillizzarvi sul fatto che non ci saranno ritorsioni se voi mettete la firma per una cosa del genere. Perché chiediamo qualcosa assolutamente che fa parte delle leggi canoniche. E a questo proposito ho ricevuto due email da parte di due avvocati che commentano la questione della nullità dell'elezione di Bergoglio a causa di un conclave convocato in modo illegittimo. Ecco, l'avvocato Crispo mi fa notare che mentre l'annullabilità di un atto è fatto valere da chi ha interesse e non da tutti, l'annullità invece può essere eccepita da tutti. Ecco, era un concetto che avevamo già espresso nel scorso podcast. Quindi, conclude l'avvocato Crispo, alla fine della giostra basterebbe che un soggetto qualsiasi inviasse o meglio notificasse alla segretaria di Stato del Vaticano l'atto con cui si prova e si chiede la nullità di detta elezione. E il gioco è fatto. Questo concetto è ribadito dall'avvocato Antonacci che mi scrive Quanto alla possibilità di notificare un atto formale in Vaticano, questo, diciamo, se fosse notificato da un solo soggetto potrebbe essere semplicemente ignorato. Cioè, se scrive solo Andrea Cionci, chi se ne importa. Ma la petizione ha il pregio di fare rumore. Una porzione di popolo chiede ai cardinali, i reti degli apostoli, i deputati e le elezioni del Papa di dichiarare la morte del pontefice. Ecco, se i cardinali competenti si riuniranno in conclave ed eleggeranno il vero Papa, sarà costui a provvedere a tutti gli atti necessari a ripristinare la legalità. Non mi sembra che vi sia altra strada. L'avvocato Antonacci, anche lui, insiste. Chiedete l'elezione del vero Papa. Questa è la cosa importante. Non punterei a ottenere subito la declaratoria di nullità di Bergoglio da parte di una qualche autorità ecclesiastica. Quanto piuttosto a eleggere il vero Papa. La strada è quella giusta. Perseveriamo. Quindi, attenzione, attenzione. Questa petizione, ripeto, non è come la petizione per salvare la foca monaca o per chiedere la riduzione degli stipendi dei parlamentari. Quelle petizioni che sono praticamente firme e gettate nel vento. Questa petizione è un atto formale di notifica. Si dice alle autorità ecclesiastiche, guardate, le cose stanno così. C'è una Costituzione apostolica che prevede questo. Cioè, nel momento in cui la Segreteria di Stato viene informata di tali questioni, si innesca una serie di responsabilità giuridiche per loro, non per voi. Capite? Per loro. E' la stessa differenza che passa tra subire un furto in casa, fare la denuncia alla polizia o non farla. Cioè, se voi non fate la denuncia alla polizia, non c'è alcuna speranza che possano trovare i ladri, che possano recuperare la refurtiva e cose del genere. Se voi questa cosa non la notificate all'autorità giudiziaria, non c'è alcuna speranza. Quindi, per favore, cercate di capire l'importanza di questa petizione. State tranquilli, voi siete dalla parte giusta. Firmate, notificate questa cosa alle autorità ecclesiastiche, perché voi avete ragione. Noi abbiamo ragione. Ce lo hanno ribadito un'infinità di avvocati. Grazie, ci vediamo per i valdostani e chi abita anche nelle altre regioni, se volete. Ci vediamo oggi ad Aosta, questa sera, alle ore 20. Un caro saluto a tutti dal vostro Andrè Cionci.